Ciao a tutti ragazzi, oggi andremo a vedere come effettuare il test del calcio Salifert. Cominciamo con risciacquare la provetta con l'acqua dell'acquario e ne preleviamo 2 ml. Dopodiché prendiamo il componente CA1, che è una polvere, e con il gughaino graduato lo si mette all'interno della provetta. Bello raso. Eccolo qua. Dopodiché andiamo a prendere il componente CA2, diamo una bella mescolata, e inseriamo all'interno della provetta 10 gocce. 9 e 10. Agitiamo bene il tutto. Le istruzioni dicono all'incirca 10 secondi. E a questo punto andiamo ad inserire il componente CA3, mescolando sempre. A questo punto prendiamo la sirina graduata che troviamo all'interno della confezione e andiamo a prelevare 1 ml del prodotto. Io faccio entrare ed uscire il liquido in modo da togliere le eventuali bolle d'aria e andiamo poi a posizionare lo stantuffo proprio dove indica 1 ml. Ora, goccia a goccia, andiamo ad inserire il composto fino al cambiamento del colore della provetta. Non so se si veda, goccia a goccia. Non so se si veda, goccia a goccia. Non so se veda, goccia a goccia. Non so se veda, goccia a goccia. Vedete che piano piano il colore cambierà. E noi dovremmo fermarci appena il colore sarà virato verso l'azzurro. Ci siamo quasi. Eccolo qua. Il colore è cambiato. Andiamo a controllare quanto misura. E la seringa mi indica circa 17. Non so se si riesce a vedere. E 17 corrisponde a circa 420 di calcio. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.